Lei dove va quest'estate in vacanza? Guardi, volevo andare in montagna ma penso che andrò al mare. Beh, tanto se va al mare è un po' come se andassi in montagna. Mi spieghi la sua bella teoria? Eh sì, perché se decide di andare in montagna, vuol dire che la vacanza al mare è andata a monte. L'ha capita questa? L'ha capita? Che bella, guardi. Se va in montagna. Che divertimento, eh? Yuhu, che meraviglia. Oh, no. Che bella proprio. Ci vediamo. Ma cosa fa? Va via? Sì, vado in India, vado. In India? Da solo? No, magari mi porto quella vacca di sua sorella così la non mi tocca nessuno. Ma se sono figli.